chi segue credo non sia rimasto sorpreso svegliarsi stamattina con gli indici che hanno cominciato lentamente i future stanotte meno uno e mezzo meno e sette meno due e poi durante la giornata via via crescere fino a finire dax meno 4 e 15 poi molto spesso queste cose accadono infatti per questo i giorni scorsi vi dicevo attenzione perché anche se andiamo verso i weekend festivo in america per il times giving occhio perché c'erano diversi segnali che davano la possibilità di vedere volatilità in passato questo è già successo no questi sono momenti dove gli operatori vengono presi in contropiede e in particolare in america erano tutti in vacanza tutti al pranzo del ringraziamento e quindi questo tipo di manifestazioni poi chiaramente esaltano quelle che sono le performance negative perché operatori presi in contropiede corri margin call e via dicendo ricordo che siamo a livelli altissimi di indebitamento a leva quindi ci sono tantissime posizioni a leva che ovviamente poi quando il ribasso comincia a diventare pesante devono essere chiuse viene adesso conta comincia a contare parecchio per le dimensioni che ha assunto il mercato cripto infatti anche oggi il mercato cripto ha avuto percentuali di ribasso notevoli proprio perché anche di si usa tantissimo la leva quindi tutte posizioni a chiudere comunque dicevo chi segue non sarà rimasto meravigliato perché la cantilena da diverso tempo era attenzione attenzione ma perché perché quando fai l'analisi e cominci a vedere lo ricordo queste cose le avete sentite tante volte vai a fare i nuovi massimi e non c'hai volumi c'hai le divergenze sugli indicatori di breath respiro nel senso che comunque sono pochi i titoli che tirano gli indici e la mentre la maggior parte dei titoli è stagnante o addirittura comincia a scendere poi vedevamo le differenze vado all'america tra l'indice pesato e il non pesato questo è lo spike o i fang che ovviamente contano per il 25 per cento sta roba qui non si muoveva quando poi andavamo a vedere invece l'equipesato vedevamo che l'andamento era diverso c'era debolezza sempre sempre 500 si tratta soltanto che qui tutte le azioni hanno lo stesso peso e quindi i fang che sono considerati invincibili e immortali come i lander qui hanno meno influenza e infatti se andiamo a vedere l'SMP equipesato quello che stiamo vedendo adesso questo l'ETF sull'SMP 500 equipesato vediamo che qua c'è stata la rottura della volatilità di stop line c'è stato un primo segnale tecnico negativo rottura della volatilità di stop line e rientro sotto il precedente massimo qui in area 156 anche se di poco stessa cosa per il nasdaq il nasdaq normale vive lì tranquillo sempre ancora tutto bello beato quando andiamo a vedere l'equipesato stessa cosa qua segnale tecnico qui c'è si vede è sempre il nasdaq 100 ok questo ecco noi tutto questo tipo di osservazioni abbiamo fatte per tanti giorni vi ricorderete anche il vix no quante volte abbiamo detto ma è strano che il vix non vada a fare nuovi minimi attenzione perché il vix non va a fare nuovi minimi mentre l'SMP va a fare nuovi massimi eccolo qua lo spike oggi più 54 per cento siamo a 28 e 61 e poi e poi succede questo si sale per le scale si scende con l'ascensore e quindi dax meno 4 se volete vedere il future guardate questi sono i volumi questo è partito dalla questa notte il movimento no continuo senza ora queste sono candele il famoso coltello che cade quindi occhio ad afferrare il coltello mentre cade perché è un'operazione che va fatta da cecchini non non va affatto a casaccio ok volumi ovviamente picco torniamo al dax indice ovviamente la differenza è che il dax future è aperto da mezzanotte da luna circa fino alle 22 di sera ed è ovviamente non copre tutte le ore del cash mentre il dax quello che vediamo qui l'indice ci dà solo la situazione dell'indice dax dei 40 titoli del dax quando i 40 titoli sono trattati sono scambiati a mercato quindi guardiamo l'indice perché è quello che riflette quello che sta succedendo sul mercato effettivamente sul mercato del sottostante dei 40 titoli mentre il future nelle altre ore si muove per altre variabili ok allora oggi segnale tecnico direi da manuale gheppone gap apertura gap tentativo di chiudere fallito chiusura sui minimi siamo sulla media 200 siamo su una valanga di supporti importanti vi lascio solo tracciate le principali tre frecce gialle in salita dove sono avvenuti i reversal principali stiamo parlando di area 14 e 8 e se tanto mi da tanto il test qui sarà probabile ok come sempre probabile qua la certezza non ce l'ha nessuno però il momentum è schizzato verso l'alto questo il dmi spostiamo un attimo questo grafico per il dmi negativo vedete come si è aperto vi dicevo che aspettavamo la dx che girasse verso l'alto è avvenuto quindi adesso diciamo tecnicamente siamo impostati poi rimbalzi lunedì non so cosa potrà accadere poi ovviamente queste cose qui poi c'è la narrativa dietro no no ma c'è stato la variante non no quelli sono gli spilli che la notizia è lo spillo che poi va a far esplodere la bolla vi ricordate il fear and greed index quando vedevamo il grid qui in zona extreme grid questo funziona alla rovescia quando è qua significa che c'è il pallone ben gonfio ok quindi ora qua siamo appena fear 35 non si siamo cominciamo a entrare nella zona di paura non siamo ancora secondo questo indicatore in zona di eccesso ok quindi sarà un tranquillo weekend di paura come diceva il famoso film per ovviamente sempre per chi ha soprattutto perché ha posizioni a leva perché è la leva il problema per questo per questo tanti richiami alla prudenza non non eccedere perché poi queste manifestazioni non danno il tempo di intervenire quando uno dice no ma io metto lo stop a 15 8 no perché ti svegli la mattina e sei già a 15 3 ok è così che funziona e anche chi opera sui future né perché poi molti molti dei broker addirittura di notte non operano quindi sì il future in teoria è aperto ma non ci si può far nulla ok quindi sempre prudenza oggi chiaramente andamento a cascata quasi parlava di tapering ora stanno girando sui social tutti i tipi di battute sul sul tapering sul fatto che fino a quando siano decisi a fare il tapering alla banca centrale americana adesso probabilmente forse dovranno fare marcia indietro comunque una cosa alla volta ecco comunque le aspettative di rialzo dei tassi a breve avevano pompato il dollaro quindi la prima conseguenza oggi ritorno sui suoi passi del dollaro meno 0 76 e più 0 90 per l'euro che ha trovato supporto finalmente in questa famosa area fra 1 11 1 12 1 11 la pena interessato però è partito solo rimbalzo che dovrebbe proiettarsi verso le prime resistenze in area 1 e 13 quindi questa è stata la prima conseguenza del della volatilità di oggi sull'equity l'altra materie prime ecco questo è l'altro il petrolio che stava tentando di superare 79 e di colpo ovviamente su una su notizie come quelle di oggi e anche qui chiusura di posizioni long quanti report abbiamo letto il petrolio va 100 il petrolio va a 150 anche qui tante posizioni long tante posizioni speculative poi tutte chiuse contemporaneamente ecco perché poi si forma il famoso candelone petrolio li fa di frequente questi queste queste espansioni molto violente comunque anche qui siamo sulla media 200 a 70 e dal punto di vista tecnico impulso negativo ribassista quindi tutto da valutare per il momento anche qui abbiamo il coltello che cade quindi attenzione quindi dobbiamo valutare ora poi nei prossimi giorni il da farsi anche perché non siamo sicuri visto che tutto questo movimento è avvenuto in un weekend di festività almeno per quello che riguarda i mercati americani non siamo sicuri che qui i movimenti della sistemazione delle posizioni sia avvenuta l'altra conseguenza sui metalli industriali quindi platino meno 4 e 5 avevamo visto debolezza del platino nei giorni scorsi si sta riportando continuo a oscillare intorno area mille ormai sono diverse settimane diversi mesi che su questi livelli stiamo tornando nella parte bassa quindi interessante seguirlo vediamo un attimo rame meno 3 6 metallo industriale aveva rimbalzato bene dalla media 200 e chiaramente adesso è ritornato a vedere gli stessi supporti quindi siamo in area 4 e 27 meglio loro che in queste in questi casi fa da bene rifugio però attenzione perché le chiusure delle posizioni a margine questo è avvenuto già in altre occasioni se devono essere poi liquidate delle posizioni per compensare i margini e vendono tutto quindi poi venderanno anche loro anzi da una certa ora in più c'è da una certa ora in avanti vediamo il grafico a 30 minuti e giravoce ecco vedete che nella giornata di oggi inizialmente loro saliva poi nel pomeriggio e soprattutto quando poi ha aperto l'america ha cominciato a scendere quindi ci sta che qui alcune posizioni sul gold siano state chiuse proprio per compensare i famosi margini quindi poi alla fine si vende di tutto l'argento è andato un po a metà strada tra platino e oro e quindi si è fermato un meno 1 e 8 siamo ancora il riferimento e questo hammer qui del 3 novembre attenzione perché sotto di questo andiamo poi a vedere l'area dei minimi di periodo queste sono le conseguenze principali l'asia va beh inutile dirlo di notte chiuso prima quindi le percentuali sono più basse però la chiusura del nikei era già stata abbastanza netta meno 25 anche il nikei si è portato su media 200 e volatiliti stop line quindi vedremo poi lunedì come proseguirà il nostro fuzzimi ovviamente non fa eccezione meno 4 e 60 ma anche il fuzzimi avevamo avuto proprio il video di ieri l'avevamo intitolato ecco questo è un altro caso in cui l'indice inganna no perché poi bisogna vedere l'indice all'interno come pesato però uno dei settori guida che è quello bancario vi ricordate ieri abbiamo fatto proprio il video e il settore bancario indebolisce il fuzzimi vera già ieri aveva rotto i supporti a 179 questo è un etf sul fuzzimi banks e quindi aveva aveva anticipato il settore bancario quello che sarebbe stato poi il movimento successivo per questo vi dico poi la narrativa diciamo che è colpa di questo colpa di quello ma la tecnica l'analisi tecnica i segnali di avvertimento li aveva già dati guardate quale divergenze sul dmi positivo che scendeva mentre l'indice bancario saliva e via dicendo ne abbiamo visti tanti di questi segnali probabilmente chi li ha sentiti chi segue questi video si sarà anche stufato di sentirli a un certo punto è però così è non è che possiamo dire cose diverse da quelle che derivano dall'analisi se no è inutile che stiamo qua a insomma a dirci le cose che ci fanno piacere dobbiamo dire le cose come stanno almeno dal punto di vista dell'analista va bene direi è tutto per questa settimana che si è rivelata molto interessante continua inutile dire continuate a seguire perché immagino che sia self evident diciamo le gli sviluppi di una situazione del genere possono essere diversi la settimana prossima inutile fare troppi scenari dobbiamo sicuramente ecco lunedì è una giornata importante perché lunedì qua torno sul dax un attimo c'è da capire se da questi livelli appunto la chiusura delle posizioni debba ancora continuare e a quel punto a quel punto si apre la strada ad area 15.014 8 che il target naturale di questo movimento qui siamo rientrati all'interno dei vecchi range quindi i massimi erano fasulli erano tutti i falsi segnali stessa cosa per il dow jones quella del dow jones è rientrato all'interno del vecchio range questi erano i principali precedenti tutti i segnali di allerta stessa cosa il russell breakout al rialzo fasullo siamo tornati dentro ecco quindi questo lunedì lunedì dopo lunedì possiamo cominciare a ragionare però io vorrei vedere prima molto spesso questi movimenti impulsivi nella storia sono sempre accaduti a cavallo tra venerdì e lunedì sono sempre stati venerdì neri lunedì neri eccetera nella poi guarda caso l'ironia della sorte quest'anno è capitato veramente venerdì nel black friday era anche il black friday commerciale va bene tutto per questa settimana grazie per l'attenzione lasciate sempre nei commenti le vostre segnalazioni di situazioni interessanti così poi le guardiamo assieme sui grafici buon fine settimana a tutti appuntamento a lunedì